Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Merda! Ho soggiornato a Hollywood, a Awesome Stay, free parking. Dite a scartare questo? No closet to hang clothes, no security. No breakfast, vending machine broken, ice machine broken. Devo leggere questa traduzione e poi lo cambio. Devo leggere questo, raga. Gran parte dell'hotel... Eh sì, più che tra l'altro devi scendere per guardarle. Qua andiamo a sinistra. Qua c'è lo stop all way, quindi ci si ferma. Non c'è nessuno, andiamo. Takut away, Chantilly Road. Boh. Sei minuti e siamo... Ma il centro di Bel Air! Ma guarda che anche la pane, questa roba qui... Lo senti che... Infatti dimmi, casquini con me, è troppo... Troppo schifosa. È una roba folle da bere, raga. No, io sono una da bibite gazate. Minchia culo. Abbiamo 20 minuti per un dolce. Comunque non è che puoi prendere anche le cose a portare via, vista che roba. Sì, ma non lo puoi lasciare così questo, che è già che ciò che è? Adesso capiamo un attimo. Allora, prendo lo zaino e ci mettiamo dentro il power bank e andiamo all'hotel. Andato? Sì, vi la basta, se non lo guarda, fa bene la stessa. No, no, ma io non devo fare niente. Che, ma ti ti do avanti e copri. Eh, non vogliono che... Ma lui pensava di essere inquadrato, ma non è stato inquadrato. E quindi... Oh, con calma... Boh, raga, uè, non è che... Lui pensava che io lo avesse inquadrato, ma non l'ho inquadrato. Noi rimaniamo così, che inquadra la mia di faccia. Vabbè, non mi interessa che mi ha offeso, non mi abbia offeso. Però abbiamo recuperato... Oh, quanto andava qua? 900 km orari andava e sembrava che eri feriti. Eh, beh, è veramente grosso. Sembrava che eri fermo, quell'aereo lì. Ma vogliamo parlare della classe business di quell'aereo che finita la pazzesca che aveva, raga. Vedo perché pagano 3.000 euro, perché sono l'anno in divanetti, sto cazzo. Eh, sei nel chill. Lo sapete benissimo, ragazzi. È un nuovo modo di bere l'acqua, soprattutto in posti dove magari, come qui, diciamo che l'acqua non è proprio un granché. Semplice, borraccia dritta. La riempiamo d'acqua, da qui. Ok? C'è questa cannucciona giga che ci permetterà di berla così. E voi dite, cos'è la differenza? Io bevo l'acqua normale. Bene, la differenza è questa, raga. Se non si apre la parte sotto, ma solo la parte sopra, il pod. Questo è uno dei miei preferiti, limone e basilico. È un aroma che quando lo respiri, ti fa credere che stai bevendo qualcosa che sa di questo aroma. Quindi lo metti sopra, lo alzi. E l'acqua sta di limone e basilico. Signori, AIRAP, con il codice XUDERAP, il 10% di sconto. Dai, grazie AIRAP. Direi, ragazzi, che possiamo andare avanti adesso. Come l'acqua? Segna su. Però, purtroppo, non si può. Niente, 3.000 patatine andate. Era lì ad aspettare. Ah, questo è un altro da dietro. Peccato, raga. Italiano? Devo vedere subito. Perché applaude? Perfect. Beh, il volo, speriamo che passi veloce. Allora, ragazzi, ripeto. Avendo queste condizioni con la PAMI, che non è al 100%, ma è comunque disponibile. Buongiorno, Zecco. Grazie delle 95. Saluto Federico Pari. Ciao, caro. Buongiorno. Il volo dura 11 ore, dura. Avendo appunto questa cosa, dove la PAMI non c'è al 100%, non ho più... Merda, che cazzo di win. Sono andati avanti gli alert da prima della partita alla fine della partita. Me-er-da! Me-er-da! Mi squisci, Trivius, non sbombardi, un euro e venticentesimi. Per cortesia. 86, 80. Vabbè, mi segno un 87. Mi segno un 87. Dino! Dino! Parca niaz! Parca niaz, parco! Parca niaz, parco! Parca niaz, parco! Parca niaz! 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 Grazie, raga. Ce la facciamo io e te anche? Ce la facciamo anche io e te la foto? La torre dietro? Sono belle larghe le sedute, sono molto larghe le sedute, ed è quello un po' meno barbonazzo. Poi c'è quello che sono andato io, che è quello dei tirchi di merda, che però, aspetta, non è che dici tirchi di merda perché costa 30 euro, no, tirchi di merda perché ho pagato comunque 1.800 per due persone, quello dei tirchi di merda, aspetta, quello dei tirchi di merda che è un po' simile al vagone estiva, no, non è vero, no. Grazie. No, te lo dico. Non è vero che scendiamo dalla macchina. Stiamo facendo un tour così, stiamo facendo. Ragazzi, il tour delle ville di Belè dalla macchina. Conviene, ragazzi, se le vogliamo vedere conviene farlo così, raga. Non avremo più tempo per farlo dopo. Lo facciamo così, raga, che ne dite? Tanto voi state vedendo bene, giusto? Oh, io, 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 io. Muffo, sei. Io ora vedo bene, ora bene. Non sai che mi hanno detto che potevano spararmi? Mi sembra un po' aspetta, a destra ce l'hai sempre la svolta. A destra puoi sempre girare? Questa cosa qua che puoi sempre girare è una figata. È troppo comodo. Comunque, rimani qua. Questo è custodito. Facciamo il check-in senza niente? Facciamo il check-in con i documenti. E poi con calma, quando finiamo la live e tutto, andiamo. Allora, adesso 51%, ma devo sistemarmi un attimino. Questa è il 38%. Che non è male, 38% per fare le foto? Sì, no. Ragazzi, vi chiedo un so... Il mio telefono è a 38%. Intanto devi fare le foto con quello rosso. Un momento, ragazzi, eh. Un momento, perché siamo sotto nel parcheggio. Allora. Un momento, raga. Sì, infatti, il check-in è alle 15. Ma io gli vorrei dire che noi comunque siamo host dell'hotel. Se riesco ad andare senza troppo burbello, non è male. Guardate, dai che andiamo all'Universal domani. Eh, domani, ragazzi... Secondo me è un maschio. Quindi l'aggia della femmina. Ma sì, uomo o donna che vuoi che sia, uguale. Andiamo. Tanto oramai ti mettono anche sulla carta di identità che non si sa più che gender sei, che gender non sei. È tutto uguale, siamo. Andiamo. Io però non lo prendo ne scuro. Voi sapete quello che volete. Grazie. Grazie qualcosa, grazie. No, c'è, c'è. No, c'è. No, c'è. No, c'è.